E ciao a tutti amici sono sempre io Gold e benvenuti in questo nuovo episodio di Space Engine Series Survival Allora gente, ahimè il veicolo da scavo superficiale ha preso un po' di colpi Vi devo mettere al corrente di alcune informazioni perché mi sono reso conto che lo scorso episodio si è interrotto con io che tornavo indietro con il nostro buggy Il fatto è questo, non sono andato avanti con l'editing di quell'episodio perché era già molto lungo Vi spiego al volo cosa che ho fatto Sono tornato indietro alla base, ho preso il veicolo da scavo superficiale Una volta preso il veicolo sono tornato qua che è la zona dove abbiamo deciso di scavare o provare a scavare per salire fin sopra Come potete vedere lo scavo non è andato bene e il veicolo si è ribaltato E questo appunto ci porta ai danni subiti Lì per lì ho dovuto fare delle riparazioni un po' alla macellaio come potete vedere ho dovuto cannibalizzare alcuni componenti Ma sono riuscito comunque a portarlo via Quello che faremo oggi è riparare prima di tutto il veicolo da scavo superficiale perché deve essere riparato E per farlo lo faremo alla fabbrica generale Dopodiché prenderemo l'elicottero e inizieremo a fare delle panoramiche per vedere una zona Per cercare una zona migliore dove salire Questo è quanto Spero anche di fare il tutto molto velocemente in modo tale da poter già iniziare a formare di nuovo il convoglio Quindi per prima cosa ve lo dico subito Torniamo indietro e mi preparo per riparare il veicolo Allora penso che dietro questa collina vedremo finalmente il segnalatore radio Ah penso Non ho troppe speranze ve lo dico Allora L'obiettivo di oggi teoricamente è molto semplice E dico teoricamente perché in realtà poi Vedere dall'alto di un elicottero A vederlo poi dalla superficie Il terreno può essere decisamente decisamente diverso Che è purtroppo ciò che mi spaventa molto Perché comunque vi ricordo che noi dovremmo formare un convoglio abbastanza grande Molto grande in realtà Non abbastanza grande E quindi già questo di per sé potrebbe Potrebbe causare un po' di problemi Potrebbe causare decisamente un po' di problemi Oh bene la fabbrica Piano eh Piano eh Ok In realtà sono anche molto tentato Di costruire un nuovo veicolo Da esplorazione Che avevo fatto Che ho fatto in live In questi giorni E E vorrei effettivamente costruirlo Ho paura però che qua dopo due salti Lo spacchiamo Perché è molto sportivo Ha una guida fantastica Però è molto sportivo Tende ad essere un po' incontrollabile Ok Iniziamo subito con le riparazioni Penso non prenderanno troppo tempo Ok Anche questo è fatto Tutto il resto è già saldato Sì Sì Ok Ok vediamo una Ah abbiamo perso anche il generatore di carburante Uuuuh Vero 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 E questa Questa non va bene come cosa Ma intanto tu saldati Ancora non è finito Le batterie si sono schiantate Wow Non me ne ero accorto Piccolo serbatoio dell'idrogeno Oh Perché ho come l'impressione Che non stiamo facendo i progressi Che dovremmo Eccoli Bene 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 Ora possiamo riaccenderlo Benissimo Penso ci sia tutto adesso Generatore di carburante Sì Sì allora Suppongo che Che sia finito In realtà Suppongo che sia finito E il resto Erano giusto Dettagli Quello che mi importava Era sistemare la parte interna Ovviamente Ok Sì direi che Direi che ci siamo Diciamo che con questo veicolo Non ci si può fare Esplorazione In realtà Mi sto rendendo conto Che le ruote Posizionate così Non van bene Cioè O si rimuovono Questi container Oppure Siamo Ahimè condannati Al Al ribaltamento Non è che c'è tanto da fare Ok Ok quindi questo È fatto Bene Dicevo Devo prendere L'elicottero Devo prendere l'elicottero Quindi fatemi sistemare Gli inventari Allora Qua è tutto pronto Va bene Si prende Si prende l'elicottero Andiamo E siamo in volo Allora La zona che dobbiamo vedere È quella laggiù Dove c'è quel plateau Sin da qua Riesco a vedere Che laggiù c'è un bivio Vediamo un attimo Quindi così è la panoramica Esatto Questa qua è la strada Che abbiamo fatto la prima volta Questa E siamo arrivati laggiù Poi da lì siamo passati sul lago Mentre lì Ci deve essere la zona Dove abbiamo provato a scavare E laggiù invece C'è la possibile zona Base aerea Che in realtà Avevamo scartato Poi La prima cosa che vedo È lì Un'insenatura Che potrebbe essere Forse percorsa Per arrivare fin sopra E quello sarebbe accettabile Voglio dire Un convoglio da lì Probabilmente ci può passare Se no Un'altra cosa che vedo È quella La vedo molto più lunga E probabilmente Molto più frastagliata E laggiù si infila Praticamente Tra due Montagne Non mi fa esattamente Impazzire Però Ci possiamo provare Adesso ci avviciniamo Iniziamo a fare un po' di Un po' di ricognizione No in realtà Non è Non fa nemmeno questa Al caso nostro Perché guardate Va parallela Al picco Dove vogliamo scendere noi L'unica zona Forse accessibile È quella Nemmeno Perché è ancora Una parete Di roccia Fatemi frenare un attimo Come vedete Quella lì Anche è una parete Di roccia Quindi non va bene C'è un passaggio Che è questo Ma anche qua È molto Molto ripido Però guardate qua È piatta Sta zona Praticamente È perfetta Eh sì Qua a mani basse La zona è perfetta Per fare una base aerea Cioè guardate È Praticamente piatta È praticamente piatta E suppongo Che la vista Da qua Sia Qualcosa di unico Però quello lì È giusto Qualcosa in più Sì Non c'è dubbio La base aerea Potrebbe Facilmente Venire qua Facilmente Il fatto è Come Come ci saliamo Noi qua sopra Prova a valutare Quest'insenatura Da quando c'è questa funzione Per le telecamere Vabbè Non mi sembra Totalmente Inagibile Quella zona Ecco come Come immaginavo La zona laggiù In fondo È molto Molto Più Ripida Forse si può salire Da là però Forse Forse Se si riuscisse a rimuovere Un Una parte di roccia Laggiù Si potrebbe pensare Di salire Però di nuovo Lo trovo Estremamente Improbabile Più che improbabile È molto difficile Ok Allora Torniamo alla base Adesso faccio Un gps Entrata Lo mettiamo verde Bella speranza E via Allora sapete cosa facciamo Mi porto avanti Con un po' di lavoro E inizio a riformare La carovana Di rimorchi L'unica cosa È che poi Non partiremo Direttamente Con i rimorchi Ma anzi Valuterò un attimo Se partire o no E in caso Vado a costruire Quel veicolo Che vi dicevo Ora Per i rimorchi Abbiamo da caricare Il Porta gas Che è questo qua Che sicuramente servirà E Te Che è l'altro Che sei l'altro cargo Va bene Va bene Va bene Perfetto L'ha agganciato Bene Oh mio dio Ce l'abbiamo fatta Sì Peccato che adesso Ha alzato l'altro Di sollevamento Bene Ok è tutto a posto È tutto a posto Adesso possiamo muoverci Penso di sì Agganci Agganci Spegniamo tutto La velocità Sta al zero Le coppie Sono al minimo Limiti Al minimo Perfetto Perfetto Ci siamo Allora Allora come vi dicevo Penso che i rimorchi Gli altri Quelli Da trasporto Non li porteremo Con noi Proprio perché sono Molto Molto Ingombranti E al momento Non ci servono Ok Quindi qua Penso che abbiamo Tutto il necessario Penso che abbiamo Tutto il necessario Vediamo un po' Sì Mi sembra Mi sembra Un buon numero Di componenti Sì Direi proprio di sì Almeno per mettere Su una piccola struttura Almeno per mettere Su una piccola struttura Penso di sì Ok Ah sì Dobbiamo mettere Qua in produzione Del Semente Se non erro Si dovrebbe chiamare Perché voglio utilizzare La mod Modular Runway Quindi Ah Cement mix Ok Vediamo un attimo Runway Eccolo qua Ecco appunto Quelle più piccole Ne prendono 5000 Quindi Vedete voi Queste sono le wide Quindi non mi interessano Quindi ne devo mettere In produzione un po' Suppongo 15000 Ok Io non ho mai Tutta questa ghiaia Ma mai Ce l'avrò Tutta sta ghiaia Assolutamente Appunto L'ho già praticamente Finita io la ghiaia Mamma mia Sistema un attimo Guardate qua Quanto va veloce Dio mio Abbiamo finito la ghiaia Già Oh Mai ho visto un materiale Scendere così velocemente Finita Allora Da quello che vedo Suppongo che una Forse anche due Piste di atterraggio Riusciremo a farle Sì Appunto Siamo Di poco sotto Alle 10.000 Il che appunto Significa due Piste di atterraggio Bene bene Dai Non le carico adesso Perché ovviamente Sarà un lavoro Da fare più avanti Sapete cosa? Sapete cosa? Vado a costruire Quel veicolo Ce ne andiamo Al volissimo Alla Alla fabbrica Di veicoli E E lo costruisco Anzi sapete cosa? Voglio cronometrare Quanto ci metto Per vedere effettivamente L'efficienza Ecco la fabbrica Wow Merda Ah Mi ha scodato il buggy Mannaggia Oh sì Si è ribaltato Perfetto Ora Non ho nulla Per riparare il motore Che però Pare essere L'unico danno Sostanziale Perfetto Ce l'abbiamo fatta Eccoci arrivati Ok Subito Subito Velocissimi A riparare La mettiamo qua Ok Ok Penso di avere tutto adesso Per riparare Potemi vedere Sì Esatto Riparato Riparato Qua si è proprio Spaccato un pezzo Qua ci siamo E Penso ci sia tutto Il danno È stato Bello cattivo Però Alla fine Ce la siamo Ce la siamo cavata Ok Andiamo a sostituire L'armatura Ci siamo Comunque Già adesso ve lo dico Ci ho messo 17 minuti Per arrivare qua Quindi Non è il massimo Ok Suppongo che così Sia corretto Esatto È corretto Quindi ragazzi Io direi che Torniamo su Avviamo le saldatrici E soprattutto Avviamo il programma La prima parte Ahimè l'ha saltata Penso che inizierà A saldare adesso Già Grazie a tutti. Grazie a tutti. O forse no. Tiro un attimo via il pick up dalla linea e poi parliamo effettivamente di che cos'è. Ah, ma non è arrivato fino alla fine. Questa piattaforma non è necessaria, quindi tanto vale rimuoverla. Oh, perfetto. Perfetto. C'è voluto soltanto la rimozione intera della piattaforma, ma è... va bene così. Ok, lasciate che vi parli un attimo di questo pick up. È ispirato ad un pick up che ho visto sul workshop. Ho cercato di ricrearlo mettendoci ovviamente un po' di twist per la nostra serie e soprattutto per farmelo piacere, perché comunque c'erano alcuni dettagli che non mi piacevano. Lo scopo di questo pick up è quello di permetterci un'esplorazione a tutto tondo, che ci permetta di ottenere il massimo per qualsiasi tipo di terreno. Come potete vedere al posto del cyberbug, che adesso vado a farvi vedere di nuovo, a differenza del cyberbug, come vi dicevo, questo veicolo qua è molto più alto, più grosso e più largo. Ed è principalmente per questa ragione per cui l'ho voluto costruire. Perché mi piace di più, è più grande, dovrebbe teoricamente darci un risultato migliore. Allora, come vi dicevo, la costruzione è completa, c'è giusto da vedere se magari qualcosa all'interno è un attimo da rivedere, se no possiamo subito partire alla volta della fabbrica generale, dove possiamo fare il rifornimento. Penso no, appunto non c'è niente di incompleto, benissimo. Quindi io direi che lasciamo temporaneamente in pensione il cyberbug e iniziamo, ahia, a dirigerci verso la nostra fabbrica di veicoli. Ora, devo fare poi un po' di personalizzazione per quanto riguarda l'abitacolo, perché come potete vedere qua, ah no, una parte di informazioni c'ho già, però ne mancano molte altre. Ok, partiamo. Teoricamente dovrebbe avere, non dovrebbe incontrare alcun problema, ok, devo stare attento però, dicevo non dovrebbe incontrare alcun problema per quanto riguarda qualsiasi tipo di esplorazione, ad essere sinceri, perché è alto, come potete vedere ha più di un paraurti, è rinforzato sotto, nel senso che c'è tutta una linea di armatura pesante, e davvero, con semplicemente queste informazioni qua dovreste capire che è facilmente utilizzabile dappertutto. Devo modificarne tipo subito però la velocità massima, esatto, perché 180 km all'area mi sembra un po' alto. 120 però lo possiamo utilizzare. Davvero ragazzi, è molto molto alto. Questo pick up è fatto per praticamente qualsiasi tipo di terreno. Uh, importantissimo, mi sono dimenticato un radiatore, mannaggia. Devo mettercelo dopo. Prima modifica, che dobbiamo fare? No, 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 no. Ok, dicevamo. Ah, bene. Abbiamo un serbatoio in fiamme. E immagino che la prima cosa che faremo, oltre che la modifica, saranno delle riparazioni, benissimo. Eccoci qua arrivati. E poi faremo anche il rifornimento, eventualmente. Ok, oh, Dio mio. Vabbè dai, il serbatoio alla fine non era così danneggiato. Ok, costruito tutto praticamente. Qua non ci sono stati danni. Almeno, giusto un po' di deformazione forse. Esatto. Benissimo, tutto il resto è riparato. Fantastico. Bye bye pistone. Ok, quindi abbiamo riparato tutto. Posso spegnere il proiettore. Quindi ha il veicolo di ricognizione superficiale. No, leggero. E come al solito, mi affido a voi per il nome. Ragazzi, penso che ci siamo. Andiamo a fare subito il rifornimento. Ok. Ma porca, pronti qua. Per ora non mi faccio troppi problemi. Bocchettone rifornimento. Aggancia. Ok. Ok, fantastico. Ah, comunque ci abbiamo messo 52 minuti. Penso una cinquantina, eh, in realtà. Per fare la macchina, tutto. Riparare 5.000 volte. Insomma. Non è andata così male. Adesso voglio davvero divertirmi con l'off road. Assolutamente. E andiamo a fare un po' di scouting. Let's go! Oh, 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 oh. Troppo veloci, troppo veloci. Stavo saltellando. Bellissimo. Secondo me ce la facciamo a salire di lì? Oh, yes, che ce la facciamo. Eccola. Allora, penso che ci si possa passare anche con i rimorchi, eh. Sì, bisogna tipo liberare la zona dagli alberi, ma ci si può passare. Fatemelo fare. Alberi abbattuti. Eh sì, ci si può passare adesso. Vi ripeto, probabilmente non incontreremo grandi problemi. Soprattutto in questa prima parte. Ma neanche qua, ora che ci penso. Basta dare più potenza alle ruote della motrice. E male che vada, si può dire al DAS di dare potenza anche al resto del rimorchio. Anche di qua non mi sembra troppo problematico per ora. Però si arriva qua e forse si riesce a salire da questa parte. Sì, non mi sembra troppo inagibile. Devo essere sincero, sono preoccupato per le pendenze. Però se sono solo le pendenze, il DAS forse ci può aiutare. Più potenza con le ruote, più potenza. E sì, penso che siamo arrivati. Esatto, qua poi il terreno migliore. Significa che siamo vicini al platò. Bello. Eccoci qua. Sì, siamo in cima. Penso che questa qua non sia ancora la zona perfetta. Ma dovrebbe arrivare tra ben poco. Ecco appunto, eccoci. E guardate, per comodità si potrebbe fare esattamente qua. Oh, yes. Che bella sta zona. Che bella. Va bene gente, dai. Oggi l'outro la facciamo dal veicolo perché mi sono reso conto che ho fatto tutta la partita con la tuta sbagliata. Scusate, so che ci tenete all'immersione. È colpa mia. Vi ringrazio davvero tantissimo per avermi seguito. Vi invito a lasciare un bel mi piace e un commento dicendomi cosa ne pensate dell'episodio di oggi. E in particolare anche di questo veicolo. Ragazzi, io non so voi, ma io non vedo l'ora di iniziare questa base aerea. E penso proprio che il prossimo episodio sarà tutto incentrato su questo. Io davvero vi ringrazio ancora per la visione. Sono Gold. E noi ci vediamo con il prossimo video. Bye bye. Ciao.